Per la nuova regina inizia la settimana che darà il via alla ripartenza, in cui i soggetti che lo vorranno avranno il tempo di presentare ufficialmente la loro manifestazione di interesse per la costituzione della nuova società che parteciperà alla Serie D. Il termine è fissato per giovedì alle 13. Una proposta dovrebbe essere quella di una cordata di imprenditori del Nord Italia, che ha già scelto Massimo Taibi come direttore sportivo per la ripartenza. Toccherà al sindaco facente funzione Paolo Brunetti indicare quale costituenda società potrà presentare la domanda di iscrizione alla Serie D. Le spese censite dagli esperti dicono che per programmare un campionato di vertice in Serie D servono un paio di milioni. Quest'anno tra l'altro ci sono anche 400.000 euro da sostenere per l'iscrizione in soprannumero. Serve affidabilità ma anche solidità economica. L'ideale sarebbe trovare qualcuno che abbia la forza finanziaria da usare in modo razionale. Per riportare la regina ad alto livello in non troppi anni.